Il Taranto anti-Cerignola non dovrebbe riservare sorprese rilevanti, al di là degli impegni ravvicinati che vedranno il rosso-blu scendere in campo altre due volte nel corso della settimana, tra le muramiche contro il Giuliano e poi a Crotone, Capuano sa che l'insidia principale è rappresentata proprio dalla formazione di Tisci, in casa tra le migliori in termini di risultati e desiderosa di rivalza dopo il 4-0 incassato per discorso contro la Juve A difesa dei palli, Capitan Mannucchi, terzetto difensivo composto da Luciani, Miceli e Riggio nonostante scalpiti punerrici. A centrocampo la grande novità sarà quasi certamente rappresentata da Matera in cabina di regia in tandem con Calvano, mentre sulle fasce spazio a Ferrara a sinistra e a 1 tra Baliete e Mastromonaco sulla destra con il primo ancora leggermente favorito. Rebus offensivo se Canute e Simiri appaiono certi del posto, sulla sinistra c'è l'ombra di Orlando a insidiare Bifulco, un ballottaggio che dovrebbe risolversi a favore di quest'ultimo ma dopo il gol segnato sabato sera al Monterosi che ha regalato al Taranto tre punti preziosissimi anche il numero 96 reclama spazio nell'11 titolare.